Musica Questi ragazzi in 4 anni hanno preparato degli occhiali per noi e poi noi andremo a consegnare a persone visionnose. Con la scuola sono già circa 6 anni che noi lavoriamo. Questo progetto è nato perché la scuola aveva soltanto a disposizione delle montature limitate così come delle lenti e alla fine di ogni anno scolastico, di un certo periodo dovevano smontare questi occhiali e rompere le lenti per poter poi ricominciare di nuovo a lavorare sulle stesse montature. Avendo saputo questa cosa abbiamo pensato di fornire noi come Lions lenti e montature nuove a quantità necessaria per poter portare avanti questo progetto e per dare loro la possibilità di poter lavorare anche su montature di diversa misura con lenti diverse. Questo progetto va avanti da 6 anni con loro e con altre scuole nel nord Italia con grandi soddisfazioni perché i ragazzi sono decisamente più motivati. Nel campo medico abbiamo mandato 800 paia di occhiali in Peru Siamo andati a Chilis più che a numero. Perché? Perché anche questo è bello. Chi si presta nella solidarietà nel mondo che va a noi è e invece di mettere nelle valigie i loro indumenti eccetera una maglietta o qualcosa di ha messo gli occhiali per poter portare più occhiali possibili. 20 kg di occhiali a ogni valigia. Alla fine il risultato è 800 occhiali. Il terremoto dell'Aquila Il terremoto dell'Aquila ci hanno chiesto in maniera specifica analitica proprio 3500 occhiali perché avevano le misure, avevano le ricette e nel giro di tre giorni sono stati mandati 3500 occhiali. Quello che a noi ci impegna molto e ci dà soddisfazione e ci crea anche una certa emozione è sapere che un paio di occhiali può donare la vista magari a una persona che un domani può scoprire o inventare un qualcosa per il bene dell'umanità.